Stamani vi facciamo vedere innanzitutto due chicchettine della casa Reactor Bait. Uno è un additivo diciamo un attrattore. Stamani abbiamo portato il gusto di aglio e cozza che andiamo a mettere in pastura o nel nostro pane che andiamo a innescare e ora aggiungiamo anche l'evolution dell'additivo della Reactor Bait. Di colore verde però tanto nella nostra pastura è neutro. Mettiamo un po'. Ora voi non sentirete l'odore ma io non lo mangerei mai però è bello consistente. Prendiamo un'altra bella miscolata.